Non ci si ferma qui, dobbiamo guardare oltre, sforzarci di vedere, oltre l'Oriente e l'Occidente. Essere sicuri di avere la forza, di proteggere i nostri sogni. Non è per sbaglio o per casualità, che la tua scoperta realtà diventerà. Non ci si ferma qui, non stiamo ad occhi chiusi. Proviamo con il cuore e con la mente a volar lontano. E credere nelle nostre idee e a giocare con le nuvole. E quando meno te lo aspetti, aprirai gli occhi e capirai che non c'è differenza tra il sogno e la realtà. Grazie. 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 Grazie.